La bottega della scienza è un progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto a studenti delle scuole superiori trentine, realizzato in collaborazione con l'unità ricerca e innovazione per la scuola della Fondazione Bruno Kessler. Giunto al termine della sua seconda edizione, questo innovativo programma di ricerca partecipata ha coinvolto scuola, mondo della ricerca e società civile con l'obiettivo di rendere la cittadinanza parte attiva dell'innovazione scientifica. Il progetto ha offerto ai giovani studenti l'opportunità di toccare con mano le esigenze della comunità locale in cui vivono e realizzare attività di ricerca basate sulle reali esigenze della società civile, con la supervisione di ricercatori e insegnanti. Qualche numero? 49 proposte di ricerca ricevute dalla cittadinanza e dalle scuole, 7 progetti realizzati, 5 scuole coinvolte, più di 140 studenti, 15 insegnanti, 11 ricercatori. I temi dei progetti spaziano dall'ambiente alla sociologia fino all'informatica e alla medicina. Ogni gruppo classe partecipante presenta i risultati del proprio progetto in un vero paper scientifico.